Torniamo a parlare di monitor portatili e lo facciamo con il MageDoc PX3 Pro, un 13.3 pollici con una risoluzione pensate da ben 4K e un pannello OLED Touch che permette anche di essere utilizzato con una penna. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao, benvenuti o ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Le specifiche generali di questo dispositivo ve le ho anticipate. Insomma si tratta di uno di quei prodottini davvero interessanti da testare, vedere se effettivamente può valere la pena essere acquistato. In ogni modo proprio per questo vi lascio il link qui sotto in descrizione, magari ve li lascio anche sul mio canale Telegram delle offerte dove potrete trovare appunto offerte, codici sconto, errori di prezzo, minimi storici, perché no lo stesso proprio con un bel codice. Vediamo un po' cosa riesco a farmi dare dall'azienda. Vi dico anche che sul mio sito web giuseppegravante.com troverete la recensione completa dello stesso. Datele uno sguardo. Detto questo procediamo. E allora prima di vedere il prodotto come di consueto sono qui a chiedervi un supporto perché con un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina delle notifiche insomma supporterete appunto il canale. Vi aiuterete con l'algoritmo di YouTube come dicono tutti ma effettivamente così a voi è un gesto che non costa nulla ma per me vale davvero tantissimo. Se vi va insomma supportatemi. E detto questo andiamo subito a vedere il nostro monitor. Eccolo qui ce l'ho davanti a me con una confezione tutto sommato minimal troviamo a parte queste scritte nulla altro se non piccole specifiche. Abbiamo questa banda di cartone che posso andare subito a togliere e così ritrovarmi il monitor proprio davanti. Lo vado ad aprire bella sorpresa iniziale troviamo il monitor proprio all'interno di questa custodia che ci permette di portarlo con noi. Vado a metterla momentaneamente da parte troviamo anche un piccolo manualetto di utilizzo. Non mi sembra di vedere la lingua in italiano ma comunque sia sembra tutto comprensibile anche dalle immagini che sono a colori. Comunque un manualetto ben realizzato. Una ricca dotazione all'interno. Abbiamo un alimentatore USB di tipo C con cavo da tipo C a tipo C per l'alimentazione del dispositivo ma particolarità di questo alimentatore è che può uscire addirittura fino a 20 volt 1.5 ampere quindi è molto molto potente. Qui abbiamo un altro cavetto da USB di tipo A ad USB di tipo C che serve per poter collegare il nostro monitor al computer e poi abilitare la funzione touch quindi per farlo riconoscere e funzionare anche con il dito. Abbiamo un cavo HDMI e poi abbiamo un cavo USB di tipo C, USB di tipo C magari per utilizzarlo su un iPhone, su uno smartphone con porta USB di tipo C, su un altro computer proprio per fare in modo che possiamo avere il segnale video trasmesso. Abbiamo qui dei piccoli flyer, qui abbiamo un kit per poter andare a sistemare il vetro protettivo sul dispositivo. Vedremo che è contenuto all'interno della confezione. Quattro vitine perché lui è dotato anche di un attacco VESA ma interessante questo è un bigliettino che ci indica come fare per ricevere il regalo la penna e qui abbiamo altre cose ancora a livello di carte. Comunque togliamo un po' di mezzo il tutto e andiamo finalmente a vedere il nostro monitor così da poterlo mettere alla prova anche in situazioni diverse. Allora custodia protettiva qui questo colore blu abbiamo anche questo nastro per poterlo poi andare a mettere su una valigia. Andiamo subito ad aprire questa è la plastica protettiva per il nostro display che vi consiglio di non utilizzare e questo è il nostro display vero e proprio. Andiamolo un attimo a vedere eccolo qui si presenta in questa maniera ha una banda qui in basso devo dire leggero ma davvero fatto molto molto bene nella parte posteriore è fatto in plastica ma davvero molto molto bella al tatto si vede che comunque un prodotto di qualità abbiamo due piccoli speaker come vi ho detto i fori per l'attacco VESA e poi abbiamo il suo piedistallo per poterlo andare a reggere completamente in metallo e molto duro anche da aprire questo è un buon segno perché significa che una volta che andremo ad appoggiare il monitor non tenderà a piegarsi. Nella parte laterale abbiamo i tasti di funzionamento accensione spegnimento più e meno per il volume ma anche per muoverci all'interno dei menu così come abbiamo il tasto per annullare per passare alle diverse modalità. Dall'altro lato molto interessante la dotazione di porte perché partiamo proprio con una mini display porta abbastanza inusuale su prodotti come questi usb di tipo c per la ricarica ingresso hdmi ingresso usb di tipo c proprio per la gestione del video porta hp che suppongo sia una 3,5 mm per poterci attaccare delle casse e andare ad escludere gli speaker in dotazione. Molto molto bello non è dotato di batteria quindi dovremo necessariamente collegarlo all'alimentazione. Ci vediamo tra un po' così lo mettiamo subito alla prova. E allora sono andato a collegare lo smartphone al monitor giusto per farvi cogliere i dettagli delle immagini la sua luminosità e farvi vedere alcune piccole funzionalità. Prima di andarlo a collegare a quello che è un pc mostrarvi anche come funziona a livello di touch permettetemi di darvi qualche specifica in più. Abbiamo detto che si tratta di un pannello oled pensate a un fattore di contrasto di 100.000 a 1 e a tal proposito permettetemi di darvi una piccola indicazione un po' tutti i pannelli oled soffrono di un fenomeno che si chiama burn in vale a dire quando un'immagine rimane statica per troppo tempo rischia alla lunga di far rimanere impressa una sorta di macchia sul display che poi non va via. Quindi non visualizzate immagini statiche per troppo tempo ecco questo è un piccolo consiglio. Per ciò che concerne invece la risoluzione abbiamo una 3840 x 2160 4k come vi ho detto 178 gradi di angolo di visualizzazione ottimo a mio avviso e pensate per un display che pesa soltanto un chilo e ben 400 lumen per ciò che concerne la luminosità un millisecondo di risposta a 60 hertz in frequenza e lui riesce a coprire il 100% della gamma DCI-P3 quindi davvero ottimo. Insomma specifiche tecniche per un dispositivo così piccolo che per me sono anche da top di gamma. E detto questo vediamo come si comporta prima di tutto con i movimenti sullo smartphone ecco qui sono davvero immediati non c'è alcuna latenza vi vado ad aprire per esempio l'app di youtube vado sul mio canale vi metto l'ultimo video pubblicato perché voglio farvi vedere come si vede chiaramente a schermo intero vado in questo modo vado ad aumentare anche la qualità dell'immagine su youtube metto 4k e devo dire che la risoluzione è fantastica ovviamente dalle immagini della camera anche della luminosità non si coglie al meglio ma credetemi c'è una nitidezza impressionante adesso vado a mettere un po in pausa vi faccio vedere quelli che sono i menu se vado a premere questo tasto anzitutto mi fa vedere quali connessioni sono disponibili ed ecco qui displayport hdmi oppure la type c usciamo un attimo queste sono le diverse regolazioni per la luminosità e il volume posso muovermi in ambiti di visualizzazione modalità gioco panoramica cinema eccetera e qui posso andare a cambiare anche quelli che sono i colori in base alla scala rgb o impostare delle modalità predefinite qui posso andare a cambiare ulteriormente i valori di contrasto di saturazione di luminosità eccetera posso andare a cambiare la sorgente come vi ho fatto vedere prima o entrare in delle impostazioni per abilitare l'hdr o il dcr e allora detto questo vado a collegarlo al mio computer se non altro per farvi vedere come lui si comporta con il touch e allora intanto guardate sono andato a collegare il mio display sul pc vedete le immagini e guardate vado a toccare per esempio start ecco che si è aperto qui ma lui si apre anche sul mio monitor principale lo state vedendo proprio dalle immagini vado a chiudere start chiaramente con il dito se mi vado a muovere su una finestra la posso trascinare vedete e lei viene trascinata anche sullo schermo principale vado a premere su x vedete è davvero molto molto preciso nei movimenti certamente questa è la sua risoluzione ma tenendo premuto posso andare ad aprire il pannello per esempio vado sempre in impostazioni dello schermo andare a cambiare dei parametri come per esempio andare ad aumentare quella che è la zona quindi utilizzare un fattore di ingrandimento guardate mi ha scomposto un po' tutte quante le icone ma ovviamente come consiglio questo va fatto quando volete utilizzare il vostro schermo touch come principale quindi andare a guardare direttamente su di lui e non su quello grande vi basta tenere premuto come ho fatto prima impostazioni scorrere guardate lui è molto molto veloce e tornare al 100 per cento ecco qui tutto ritorna perfettamente guardate molto molto comodo si va ad aprire tutto immediatamente non c'è assolutamente alcuna latenza vado sul mio sito web doppio clic andiamo a vedere quelle che sono le azioni comuni come il pinch to zoom ed effettivamente come se fosse uno schermo di un tablet guardate proprio perfetto vado a cliccare mi si apre la pagina posso andare a gestire lo zoom davvero ottimo davvero magnifico è un monitor che mi ha sorpreso soprattutto per la sua qualità soprattutto per la nitidezza delle immagini credetemi è davvero spettacolare non ho mai provato un monitor così soprattutto portatile è vero è un 13.3 pollici un po piccolino ma magari vi lascio in descrizione anche i link ai modelli con una risoluzione un po più elevata e allora avviandoci alla conclusione del video sicuramente avrete capito che è un dispositivo che consiglio mi ha impressionato sotto tutti i punti di vista qualità impressionante dei materiali mi piace anche molto come è fatto lo stand perché davvero resistente non va a traballare eccetera inoltre è impressionante la qualità del pannello colori nitidi un oled in risoluzione 4k che rende davvero bella l'esperienza di utilizzo a mio avviso non solo come monitor secondario ma anche per film serie tv insomma vi verrà restituita un'immagine fedele che appunto darà anche delle belle soddisfazioni ecco forse l'unico appunto che ho da fare è sul menu non è proprio intuitivo si rischia di sbagliare andando a premere i tasti di chiudere il tutto lì forse si poteva lavorare un po meglio per il resto torno a dire promosso in pieno mi raccomando allora ci salutiamo se il video vi è piaciuto un like l'iscrizione al canale per me sono la miglior forma di supporto per tutto il resto ci becchiamo sul mio profilo instagram sempre link qui sotto in descrizione ciao ciao Grazie a tutti.